Musica Ragazzi ciao a tutti e bentornati in un nuovo video Video collaborazione con la FEM Per presentarvi la collezione primavera estate 2019 E questa collezione si chiama Luna Park Si chiama Luna Park perché sono 6 bellissimi colori E ogni colore ha un nome di un'attrazione del Luna Park Allora, ce ne sono 6 Io ne ho ricevuti 4 Due li ho stesi, che sono questi che vedete qua Due li stenderemo insieme E sono l'H225 e l'H227 Allora, prima di partire a stendere i colori Vi dico due o tre cose importanti Uno, che tutti questi prodotti non contengono tossine E questo è importantissimo Che non hanno cattivo odore Quindi che non danno noia, non puzzano E anche questo è molto importante E poi, quando andate a fare l'ordine Ricordatevi di scrivervi Perché avrete il 10% di sconto sul primo acquisto La FEM ha anche una pagina Facebook Quindi scrivetevi anche la pagina Facebook Che vi lascio scritto qua sotto Così andate a vedere anche le varie novità Poi tutte le foto che postano le ragazze Per fare vedere i vari colori E anche quello vi dà l'idea Tante volte di vedere anche i vari lavoretti Veramente bellissimi Allora, vi dico intanto che sono colori perlati Tutti Tranne le 226 Che è un metallizzato perlato Che è questo Che io ho già steso E poi c'è l'H227 Che è denso ma non è coprente Quindi è trasparente E sul sito c'è scritto Infatti come vedete non ha il bollino HD Mentre gli altri Vedete Ultra HD Hanno tutti il bollino Quindi l'unico di questa collezione Trasparente L'H227 Che secondo me è fantastico Anche per fare l'effetto vetro In un French Ho messo magari sopra un colore più coprente Tipo il Tiffany Messo questo sopra Secondo me è meraviglioso Ora lo stendiamo insieme Perché vedo qua Che ha dei riflessi sul dorato Secondo me deve essere meraviglioso Io inizierei a stenderli Poi se mi viene qualcos'altro in mente Da dirvi ve lo dico Allora intanto vi faccio vedere L'H228 Che è il Fairy Queen Che è questo Si vede subito che è perlato E hanno cambiato anche i pennellini In queste ultime collezioni E sono molto 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 migliorati Soprattutto per andare intorno al giro cuticole Quindi sono favolosi Si stendono divinamente Questo è il colore Molto molto bello Molto estivo primaverile Bellissimo Poi c'è l'H226 Questo è il Fanny Splash Che questo è il metallizzato perlato Eccolo qua Spero che possiate vedere bene Eccolo qua Io nelle tip ho fatto due passate Eccolo qua Bellissimo anche questo Allora andiamo a stendere insieme Io andrei a partirei Scusate Con l'H227 Questo è il Magic Castle Che è quello che vi dicevo Che è quello trasparente Infatti non ha il bollino HD Wow Ora noi proviamo a fare due passate Così Poi casomai prendo un Tiffany E lo proviamo anche sopra un Tiffany Perché così vedete È trasparente Però è veramente molto carino Intanto lo metto in lampada E vado a stendere l'H225 Che è Carousel Oh questo è bellissimo Nude Ok Molto bello questo Eccolo qua Guardate con una passata È già Super coprente Ed è un colore chiaro E non è poco Ok Metto in lampada Intanto Prendo un'altra tip E proviamo Con un color Tiffany Anzi Più che Tiffany Io proverei Il loro colore Che questa era Della collazione Della Christmas Collection Che non mi ricordo Questo qual era Questo ragazzi È uno di quelli Che Densissimi E coprentissimi Non ho pacezzato La tip Però voglio provarlo Su questo Per vedere Come Come è l'effetto E farò una passata sola Perché Questo è veramente Pazzesco Il colore Come coprenza È fantastico Ok Lo metto in lampada E intanto Prendo L'H227 Per fare La seconda passata Eccolo qua Molto 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 Bello Molto Ok Metto in lampada E Anche se non ne ha bisogno Però Facciamo anche L'H225 Eccolo qua Metto in lampada Anche questo E vado a prendere Eccolo qua Proviamo ad andare sopra Con Magic Castle Ok Allora ragazzi Messo sopra Questo colore Gli da Praticamente Si vedono Solo i glitter Oro Quindi a me sinceramente Piace molto più Trasparente Oppure Come vi dicevo Per un effetto Sotto vetro Secondo me Più bello È molto bello Anche così Perché comunque Si vedono i riflessi Dorati Che poi Lo potete mettere Anche sopra un cover Semplicemente Sopra un cover Perché poi Su una tip Trasparente Bene o male Si riesce Anche a vedere poco Vado a sigillare Intanto con il loro Sigillante Senza dispersione A me sinceramente Piace molto più Così trasparente Quindi proprio Un effetto Semplicissimo Bellissimo Magari con qualche Fiorellino Sotto E poi Sopra questo E dà l'effetto Sotto vetro Vado a sigillare Anche questo Ok Praticamente oltre questi Ora ve lo apro Eccola qua Una giostra di colori È pronta per decorare Le tue mani Per la collezione Primavera estate 2019 La Femme Professional Propone Sei nuovi semi Permanenti Dalle nuance vivace Dal finish glitterato E metallizzato La prossima stagione È ideale Per abbracciare E sperimentare Colori audaci Luminosi Perfetti Ad abbinare A tutti quegli Adorabili vestitini Che non vedi l'ora Di indossare Sbizzarrirsi Con i colori Non è mai stato Così divertente Perciò Lasciati ispirare Anche tu Dall'atmosfera Magica Del Luna Park Allora Io ho segnato Qui col nero Quelli che ho io Quindi Carousel Fanny Splash Magic Castle Fairy Queen E poi abbiamo Rollercoaster Che è questo Che è un aranciato E Candy Lollipop Che è questo Rosa Anche questo Un perlato Poi ragazzi Comunque Greta Che ormai tanto Sapete che siamo amiche Greta E Lady Cake Anche loro Mi sembra Che abbiano ricevuto Questi prodotti Quindi magari Anche se andate a vedere Nel loro video Magari hanno Dei colori differenti Dai miei Per poterli vedere meglio Allora Intanto vi faccio vedere I quattro colori Vediamo Ce la faccio Eccoli qua Eccoli qua Sono molto molto belli E ragazzi Bellissimi Vi faccio vedere Vi faccio vedere anche questo Che è Quello coprente Dove ho messo sopra Questo Che è L'H227 Spero che si possa Vedere bene L'effetto Soprattutto I glitterini dorati Che ha Perché è veramente Bellissimo Ed eccoli qua Ok ragazzi Allora Questo è Il tutto Io vi ho Detto Quello che c'era Da sapere E quindi Niente Andate nel loro sito Andate a dare un'occhiata Io vi lascio Tutti i link Sotto Nell'info box Per andare A vedere La nuova collezione Ricordatevi Il 10% Di sconto E ricordatevi Che non Contengono Tossine E questo ragazzi È molto importante Che sono tutti Perlati Che sono coprenti Tranne l'H227 Ma comunque Tanto nel sito Ragazzi Trovate Tutto C'è scritto Tutto Quindi Niente Io spero che vi siano Piaciuti Se avete qualche domanda Fatemela pure Vi mando un grande bacio E al prossimo video Ciao ragazzi